Riconoscere l'ignoranza è forza. Ignorare la conoscenza è malattia. Solo quando riconoscerete la malattia cesserete di essere ammalati. Il saggio non si ammala perché sa riconoscere la malattia. Questo è il segreto della salute, vivere senza malattia. C'è un bel paradosso in questo capitolo che, come ho riscontrato nelle mie letture del Tao Te Ching, esiste in diverse varianti. Solo quando riconoscerete la malattia cesserete di essere ammalati. Lao Tzu sembra dire che in realtà bisogna ammalarsi per poter evitare la malattia. Ancora una volta ho riflettuto ampiamente su questo piccolo capitolo. Ho giocato ripetutamente con le sue parole per afferrare il significato di decisiva importanza per voi quanto per me. Alla fine ho meditato tenendo davanti a me l'immagine di Lao Tzu chiedendogli che cosa volesse dire con questo sconcertante settantunesimo capitolo. Ho basato ciò che ho scritto sulla sua risposta. Prima di tutto che cosa implica la parola malattia? Per me significa che qualcosa nel corpo o nella mente non è in equilibrio con il benessere da cui abbiamo avuto origine, cioè non è in accordo con il Tao. Condizioni come febbri, dolori, asma, raffreddore, mancanza di fiato, tosse, insolida spossatezza e svenimenti indicano la presenza della malattia e l'equivalente di tali sintomi a livello del nostro pensiero possono essere la paura, l'ansia, la rabbia, l'odio, la preoccupazione, il senso di colpa, lo stress, l'impazienza e così via. Questi ci segnalano che i nostri pensieri sono sbilanciati rispetto alla nostra sorgente, che è puro amore, gentilezza, pazienza, pagamento e tutte le altre espressioni dell'essere incentrati sul Tao di cui si parla negli 81 capitoli del Tao Te Ching. In questo capitolo il saggio ha riflettuto a lungo sulla malattia ed è arrivato a comprendere che essa rappresenta una manifestazione fisica del pensiero non incentrato sul Tao. Una febbre, un raffreddore, un dolore, un malessere sono tutti identici alle espressioni non incentrate sul Tao di impazienza, paura, rabbia o di qualsiasi altro impulso guidato dall'ego. Il saggio ha visto dove questi pensieri conducono e si rifiuta di prendere parte a tale follia, perciò ha osservato la scarsa salute e ha fatto questo volo. Non penserò in modi che causino questo. Rimarrò incentrato nel naturale benessere del Tao, perché pensare un pensiero malato significa permettere alla malattia di spuntarla. Di conseguenza lui è stanco di star male e il risultato è il segreto della salute perfetta. Permettetemi di fornirvene un esempio. La mia collega e amica Radhika Kinger recentemente è tornata da un viaggio a Puttaparti in India dove si è trovata alla presenza di Sati Sai Baba. Ecco il brano di una lettura che mi ha mandato. Sono appena tornata da Puttaparti dove ho trascorso una settimana alla divina presenza di Sai Baba. Era triste vedere Sai Baba su una sedia a rotelle per via delle fratture multiple all'anca. Secondo i dottori nessun normale corpo umano potrebbe sopravvivere in tale agonia fisica, ma Sai Baba rimane talmente sereno e completamente indifferente alla sua condizione fisica. Un devoto ha chiesto a Sai Baba come mai un essere realizzato in Dio deve subire questa sofferenza fisica. Perché non ti guarisci da solo? A questo Sai Baba ha risposto la mia vita e il mio messaggio. Oggi la gente ha bisogno di imparare a svincolarsi dall'attaccamento al corpo e fare esperienza della propria divinità interiore. Il dolore è un fenomeno naturale ma la sofferenza è una scelta. Io non soffro in quanto io non sono il corpo. Sai Baba ha guardato alla sua condizione ed ha dichiarato di essere balato di una cosa chiamata la sua vita. Quando uno vive in armonia col Tao la sofferenza causata da una malattia non è neanche contemplata. Per anni ho avuto un comportamento di dipendenza e vi posso dire che la saggezza di questo capitolo del Tao Te Ching è stata in gran parte responsabile del mio ritorno alla purezza e al benessere da cui sono stato originato. Ero stanco della mia malattia e non ero più disposto a vivere le privazioni e la vergogna che la accompagnavano. Vedevo il tormento non tanto nel mondo materiale quanto nel mondo invisibile dei miei pensieri che continuavano a riportarmi alla malattia. Quando finalmente ho cambiato il mio modo di vedere tutto questo sono stato in grado di realizzare l'apparente paradosso di non stare più male semplicemente arrivando al punto di essere stanco di stare male e questo è davvero il segreto della salute. Ecco come Lao Tzu vi dice di fare per fare uso di questa saggezza qui e ora. Abbiate una mente felice. Un antico proverbio cinese dice che se un uomo ha una mente felice avrà un corpo felice. Una mente felice è stanca della malattia. Si rifiuta di immaginare che le cose peggioreranno. Considera una congestione nasale, un mal di stomaco, un dolore alla schiena o il ginocchio, la spossatezza, messaggi che ci dicono di seguire i segnali che il corpo manda per tornare al benessere naturale. Una mente felice pensa che il corpo sia capace di guarire le infermità perché sa di non essere una creazione umana ma un prodotto del Tao. Una mente felice ha fiducia nella capacità del corpo di vivere senza malattia o sofferenza. Perciò usate la vostra mente felice per fare in modo di rimanere in salute. Analizzate le vostre abitudini. Quali abitudini quotidiane vi allontanano dalla naturale condizione di benessere? Qualsiasi dipendenza, non importa quanto grave o piccola sembri, vi sta segnalando che è ora di averne abbastanza. Stancatevi di essere indeboliti da passatempi da passatempi logoranti. Voi sapete quali sono e sapete se vi siete lasciati andare per abitudine fino a star male per il troppo cibo, l'alcol o droghe o se siete arrivati a star male per il senso di colpa e di vergogna che si prova dopo essersi dati ai bagordi. Ricordatevi che ignorare la conoscenza e malattia e analizzate le vostre manie impegnandovi a non ignorare la vostra consapevolezza di ciò che sono. Ora mettete in pratica il Tao. Dedicate un giorno ad ascoltare davvero e a prestare fiducia ai messaggi del vostro corpo e poi ascoltate ciò che vi dice la mente riguardo questi segnali. Aprite la vostra mente alla possibilità che il corpo vi stia segnalando una richiesta che potete concedergli, come per esempio un sonnellino o una passeggiata lungo la spiaggia. Coltivate la mente felice incentrata sul Tao, la quale non ospiterà pensieri di malattia.